Buongiorno, siamo con Francesco Giovane, rappresentante di Plastic Free su Villa Castelli, che ci invita ad un evento di sensibilizzazione che avverrà domani in Gravina. L'evento si terrà alle 9 e mezza, domani il ritrovo è presso l'ingresso principale della Gravina in Via Leopardi. Vi consiglio di portarvi a presso un paio di guanti o pinze delle scopiche per non raccogliere i rifiuti a mani nude e raccoglierli in totale sicurezza. Ricordo inoltre, per chi non l'avesse già fatto, di scrivervi al link che troverete in allegato a questo video o nei vari post che abbiamo pubblicato in questi giorni sui vari social. L'obiettivo di Plastic Free per Villa Castelli qual è? Allora, Plastic Free prima di tutto è un'associazione nata nel 2019 e si pone a livello nazionale l'obiettivo di sensibilizzare le persone sui temi della plastica monouso, quindi l'obiettivo è quello di ridurre il consumo della plastica monouso nella vita quotidiana. A livello di Villa Castelli noi cercheremo di portare un messaggio, cioè il messaggio di non sfruttare questo gioiello che noi abbiamo nel nostro paese. Quindi rendere più bello questo posto, riportarlo in sicurezza, anche se non è compito prettamente del cittadino privato, ma possiamo dire che l'intervento del cittadino è anche importante affinché si sottolini la bellezza e l'utilizzo che si potrebbe fare della gravina. Certo, io penso che se un luogo è pubblico deve essere di tutti l'impegno di averne cura e di preservarne con la sua natura. Quindi ci vediamo domani mattina alle 9 e mezza, Villa Castelli Online sarà lieta di seguire l'evento. Grazie mille.